come state allora oggi voglio parlarvi di qualcosa di insolito non solo perline ma questo video che si chiama svuota la spesa allora è qualcosa di diverso da quello che sono abituata a fare o a caricare nel canale ma è un'iniziativa di una creativa che si chiama eliana paradiso credo che sia lei che che l'abbia ideato però se dovessi sbagliarmi per favore ditemelo e riguarda proprio la nostra spesa quello che mettiamo nella nostra tavola addirittura in qualche video ha scritto eliana benvenuti a casa mia io lo trovo la trovo un'iniziativa simpatica graziosa e oltre a farci conoscere un po di più quindi a condivide non tanto per mostrarsi ma per condividere con voi quelli che sono i gusti di non solo perline ma qualcosa che riguarda un po più appunti gusti personali la trovo un'idea carina anche perché possono venire fuori dei consigli per gli acquisti che appunto non riguarda solo le creazioni perlinose ma di qualcosa che usiamo tutti i giorni e di qualcosa che possono può essere una scoperta allora intanto io non mi ricordo se l'ho detto ma ringrazio claudia angelini che mi ha taggato ciao claudia e grazie per il tag e a mia volta taggo valeria creazioni che è una mia carissima amica ciao valeria mi raccomando svuota la spesa e lucrezia nappi adesso vi faccio vedere i prodotti però ci tengo a dirvi una cosa io non faccio la spesa in un unico supermercato non la faccio una volta al mese quindi per tutto il mese la faccio in diversi step anche perché ci sono alcuni prodotti che trovo solo in alcuni supermercati altri no e quindi adesso quello che ho comprato l'ho comprato all'euro spin quindi non ho comprato tutto quello che mi serve ma quello che mi serve di quel negozio e poi vi farò vedere alcune cose del loro spin alcuni prodotti e che che uso da tanto tempo perché mi trovo benissimo e che per me sono state proprio delle scoperte e ancora ciao a tutti grazie a claudio angelini ancora una volta e ci vediamo tra poco allora cominciamo con questi che sono prodotti da freezer quindi li devo andare a posare prima che si scongelano questi di qua io li compro spesso sono bastoncini di verdure li trovo molto leggeri e a noi piacciono praticamente contengono broccoli carote mais sedano di questi ne sono 10 non mi ricordo il prezzo e non trovo lo scontrino perdona per questo comunque costano pochissimo ce ne sono 10 ne ho comprate due confezioni questo qua sono broccoli arrosette io li preferisco quelli bianchi li faccio molto spesso perché mangiamo molte verdure e purtroppo congelate perché non ho il tempo di lavarle diciamo che le verdure fresche sono ottime anzi sono forse consigliate però ci vuole stare molto dietro non ce la faccio allora questi broccoli arrosette e mi trovo benissimo un pacchetto da 600 grammi poi ho preso poi ho preso questo tipo di verdure finocchio finisco sempre questa verdura che si chiama il lattudino le tenere marca foglia verde le tenere lattudino è buonissimo io lo faccio spesso e mi piace tanto ok adesso posso queste cose nel frizz e torno allora poi ho preso questa carne buon pascolo si chiama la marca carne in gelatina io mi trovo molto bene solo 1,5 per cento di grassi che non faccio spesso ma al bisogno ovviamente vi faccio vedere uno per tipo perché ne ho prese diverse così come i fagioli borlotti ad esempio questi qua le mie ragazze amano molto la pasta fatta al bimbi con i fagioli non so se la conoscete la ricetta è già addirittura nel libro del bimbi che prevede anche la pancetta io non la metto però ma viene buonissima anche con la pancetta ma io preferisco per la più leggera e viene davvero gustosa quindi di questi ne prendo sempre a confezioni questi qua che già sono stati perfetti arachidi tostate la casa nostra diciamo questi non mancano mai o no a quanto riguarda la pasta io mi provo molto bene con questa tre mulini integrale diciamo anche un po quasi sempre pasta integrale ho preso diverse confezioni sia di questa che di pasta cotta poi questi di qua che non li mangio io ma le mie ragazze preferisco adesso non vanno più a scuola perché ormai sono grandi si sono diplomate però diciamo ho sempre comprato queste anche li portavano per la scuola ma anche adesso li utilizzo li mettono in borsa perché sono come dice qua pratiche confezioni proprio perché sono messe nel ogni ci sono cinque confezioni dentro e quindi sono proprio astuccio rimane ne prendi uno e rimane tutto il resto ben pulito si apre da qua ci sono diversi gusti nocciola cioccolato vaniglia io li ho presi alla nocciola e mi pare che costino un euro e 19 qualcosa del genere di questi ne ho presi diverse confezioni poi un'altra cosa che io uso dell'euro spin perché ho comprato in altri posti e non mi piace ci sono proprio si sentono le spine invece in questa proprio marca dell'euro spin no sono filetti di sgombro noi spesso quando siamo obbligati ad una cena veloce leggera e leggera apriamo questi con un po di limone un po di verdure e siamo a posto e io mi trovo molto bene poi un'altra cosa che ho preso non so se li conoscete sempre dell'euro spin tutto quello che vi sto facendo vedere è dell'euro spin queste fette di segale integrale sono buonissime io non mangio il pane o perlomeno lo mangio raramente così come la pasta e queste le trovo molto bene e sono anche devo dire che io le trovo gustose allora una scoperta molto interessante di cui voglio parlare sono queste sono dolciando la marca sempre dell'euro spin croccante cioccolato belga sono delle aspettate che vi faccio vedere perché l'ho aperta proprio per farvelo vedere allora è stata una scoperta di quest'anno sono delle sfogline di cioccolata e ci sono anche al cioccolato fondente queste sono all'arancia ma ci sono anche al cioccolato fondente e sono buonissime io le ho scoperte per caso perché dovendo creare uno spazio di accoglienza quindi dove accogli delle persone devi creare uno spazio grazioso dove preparare caffè cioccolatini caramelle biscottini ho trovato queste che sono deliziosi sono andati a ruba tutti mi hanno chiesto ma dove li hai acquistati sono buonissimi tanti anni che conosco le ho spini non le avevo mai comprati quindi sono stata una scoperta questi mi ricordo il prezzo 1,89 euro anche quelli al cioccolato fondente sono buonissimi e sono veramente guardate ce ne sono così in scatoletta e ce ne sono tantissimi sono veramente ideali quando abbiamo spini insomma vogliamo uspire qualcosa oppure come me per lavoro devo creare degli spazi di accoglienza chiamiamoli così e poi invece un'altra cosa che vi volevo consigliare che per me è stata una scoperta dell'Eurospin questo prodotto che è un latte detergente con olio di mandorle con estratto di iris e dice qua lascia la pelle morbida idratata e fresca fior di magnolia questa marca è ottima io lo uso da tanti anni noi siamo io ho tre ragazze adesso sono due in casa perché una si è sposata e quindi siamo già con me tre tre donne che continuamente hanno bisogno di struccarsi e questo è ottimo proprio il trucco va via velocemente mi trovo bene costa meno di 3 euro credo 2,89 qualcosa del genere un altro prodotto dell'Eurospin questo non l'ho comprato ora ma l'avevo per farvelo vedere è questa crema colorata BB cream medio chiara io l'utilizzo è da 50 mm mi trovo benissimo perché non unge si asciuga subito ed è proprio una base colorata infatti io non uso fondotinta uso solo questa e per oggi mi sa che ho finito anzi no c'è un altro po' di biscotti che li hanno aperte le mie ragazze stamattina un attimo solo ve li faccio vedere questi che loro amano molto e anche questi mi pare che costino un euro infatti già stamattina sono quelli con il cioccolato di sopra l'Eurospin sono buonissimi e infatti io glieli prendo sempre quando vado perché so che li amano questa marca proprio dolciando va bene io ho finito svuotato la mia spesa come vi dicevo questa è parte di qualcosa che ho comprato all'Eurospin però ad esempio come detersivi io non vado all'Eurospin perché non mi trovo bene come detersivi soltanto qualcosa prendo ad esempio un prodotto ho dimenticato per farvelo vedere per la lavastoviglie per pulire le lavastoviglie che mi trovo benissimo però altre cose preferisco già dei prodotti che conosco come la candeggina ad esempio prendo l'acee insomma vado su prodotti più di qualità che conosco e che già conosco magari ci saranno anche prodotti all'Eurospin che io non conosco come detersivi per questo dicevo può essere anche importante seguire questi video perché possiamo fare delle scoperte ok io vi saluto tutte spero che il video vi sia piaciuto ancora ringrazio Claudia che saluto ricordo a Valeria e a Lucrezia che vi attaccate quindi se vi piace questa iniziativa continuate anche voi un abbraccio grazie a tutti